Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche giorno fa è uscito al cinema un film che si chiama The Woman King, che non ho visto al cinema, non ho intenzione di vedere per ora, magari lo vedrò su qualche piattaforma per farvi la recensione, che però racconta, e questo lo dice già il trailer, lo dicono le sinossi del film, racconta la storia di questo corpo militare femminile, le amazzoni del Daomei, che è nato e si è sviluppato in Africa, che combatte contro gli europei schiavisti, combatte per la libertà del popolo, combatte per impedire che questi commercianti di schiavi europei possano catturare degli uomini e portarli appunto come schiavi in America. Ora, se uno va a guardare il trailer o legge la sinossi, leggerà a chiare lettere ispirato a fatti reali, il che è tecnicamente vero, perché come vedremo nella puntata di oggi, in effetti le amazzoni del Daomei sono esistite come, ma nasconde il fatto che tutta la storia è completamente diversa, non solo perché ovviamente i fatti che vengono raccontati non sono mai esistiti, ma perché la realtà era esattamente l'opposto, cioè le amazzoni del Daomei non lottavano contro gli schiavisti, ma lottavano a favore di un regno, il regno del Daomei, che campava catturando e vendendo schiavi. E la cosa incredibile è che in questa storia gli europei ad un certo punto combatterono contro il regno del Daomei, non per catturare degli schiavi, ma per imporre loro di smettere di catturarli e di venderli. Insomma, una storia completamente ribaltata rispetto alla realtà, che però merita di essere raccontata, perché è particolare e, come al solito, permette di scoprire come la storia sia molto più complessa e molto più affascinante di quanto qualunque film di Hollywood ci possa raccontare. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare la vera storia delle amazzoni del Daomei. Partiamo col dire che, ovviamente, il termine amazzoni del Daomei è un termine che è stato inventato in Occidente, perché quando gli occidentali, quando gli europei, vennero a contatto con questo corpo militare femminile, fecero una normale associazione mentale con i miti greci che conoscevano, quindi il mito delle amazzoni, e iniziarono a chiamarle in questo modo. Ma il loro vero nome era un altro, Agaji oppure Mino, con il primo termine che, peraltro, è molto simile a quello che viene utilizzato nel film, ma il secondo, Mino, che è invece quello che probabilmente veniva usato più sul posto. Ora, la loro storia, come è facile immaginare anche dal nome, è fortemente interconnessa con il cosiddetto Regno del Daomei, che era un regno che si sviluppò in Africa, grossomodo nella parte costiera dell'attuale stato del Benin. Lo vedete sulla cartina, così avete un'idea di dove si trovi. Ora, normalmente in queste storie si dice sempre, nell'antichissimo Regno del Daomei, come se l'Africa fosse un continente rimasto completamente immutabile per 2000 anni, fino a quando non sono arrivati gli europei a stravolgerlo. Ora, lungi da me dire che gli europei non abbiano fatto una quantità di porcate incredibili in Africa, che ancora oggi vengono purtroppo scontate dai popoli di quelle zone, ma come è facile pensare, l'Africa come continente era ovviamente un continente molto vivo, in cui, molto prima che arrivassero gli europei, erano già sorti molti regni, molti stati, questi stati erano cresciuti, avevano combattuto l'uno contro l'altro, erano scomparsi, erano stati sostituiti da altri, in una storia che è molto, molto complessa, e che viene molto poco raccontata, e in questo faccio un mia colpa anch'io, anche se nel prossimo anno cercherò un po' di rimediare a questa situazione, un po' perché, diciamolo, tendiamo a interessarci poco della storia africana, prima dell'arrivo dei colonizzatori europei, un po' perché in effetti ci sono rimasti pochi reperti, perché la scrittura è stata introdotta molto tardi, perché molto spesso questi reperti sono stati fatti con materiali deperibili, come il legno, insomma, tutte cose che hanno reso talvolta difficile ricostruire la storia, e la stessa cosa avviene in questo caso. Quello che però sappiamo è che in effetti il regno del Daomei non è così antico, perché sarebbe nato all'inizio del XVII secolo, secondo la tradizione tra il 1610 e il 1620, ad opera di un popolo che si chiama i Fon, i Fon, secondo la tradizione, sarebbero arrivati in questa zona, quindi, ripeto, la zona costiera del Benin, tramite una migrazione. Sarebbero nati, in effetti, da un altro popolo che si trovava più a nord-ovest, gli Aji, si sarebbero distaccati, appunto, all'inizio del 1600 e sarebbero migrati in questa zona, unendosi a delle tribù che si trovavano qui e che non avevano ancora costituito uno stato autonomo, ma che già da molto tempo avevano dei piccoli potentati. Ora, questa è una leggenda di cui non possiamo verificare la realtà. Secondo altre fonti, infatti, non sarebbe una migrazione l'origine di questo popolo, ma proprio un'unione di varie tribù che, in maniera pacifica o più probabilmente unite da un qualche conquistatore, si sarebbero riunificate in un unico regno. C'è anche una versione, diciamo, intermedia che dice che qualcuni nobili provenienti da un altro popolo si sarebbero spostati insieme a un esercito avrebbero riunificato queste tribù. Ad ogni modo, come vi dicevo, questi font, una volta stabiliti in questa zona del Daomei, crearono un proprio piccolo regno. Piccolo regno che in realtà fin dall'inizio non fu completamente autonomo, perché pur avendo un sovrano, divenne ben presto un protettorato di un regno molto più grande che si trovava ad Oriente, che aveva il suo centro nell'attuale Nigeria. Ora, non vi voglio dare troppi nomi, ma alcuni sono necessari, giusto anche per iniziare un po' incuriosirsi su questa zona. Questo regno, che si chiamava il Regno Oyo, era molto potente e in effetti tra il XVII e il XIX secolo crebbe moltissimo, fino non solo a inglobare buona parte della Nigeria, ma anche a sottomettere come stati vassalli buona parte degli stati vicini, soprattutto grazie alla sua cavalleria, che era nettamente superiore a qualunque esercito che gli altri stati potessero mettergli contro. Ora, questa situazione durò praticamente indisturbata fino al 1720, quando il nuovo sovrano del Benin, che si chiamava Agagia, decise di cambiarla. Ed è proprio qui che inizia la storia delle nostre amazzoni del Daomei. Ora, il re Agagia, che sarebbe salito al trono all'incirca nel 1720, non aveva molto intenzione di piegarsi a questa situazione. E per questo decise innanzitutto di espandere il suo regno e di farlo per cercare di occupare le zone più ricche a lui vicino, cioè le città costiere. All'epoca, infatti, già da parecchio tempo, gli europei commerciavano con questa zona e ovviamente lo facevano con le città lungo la costa, che erano quelle più facili da raggiungere per le loro navi. Lo facevano addirittura da prima ancora, nel XVI secolo, prima ancora che i fond si stabilissero in questa zona e avevano continuato a farlo negli anni successivi. Agagia decise di entrare in questo commercio e di farlo in maniera militare, come? Semplicemente prendendo il suo esercito e conquistando le città costiere, città che erano nelle mani di varie famiglie che non si erano unite fra di loro, che vennero una dopo l'altra spodestate e costrette a fuggire. Ovviamente questa espansione attirò l'attenzione del regno Oio, che non aveva nessuna intenzione di vedere un suo vassallo crescere troppo, temendo che potesse distaccarsi, e che per questo decise di mandare il proprio esercito per cercare di spegnere l'indipendenza del Daomei. Agagia però, che non era uno stupido, aveva ben presto reintrapreso i commerci con gli europei, europei che non si erano fatti molti problemi su chi fosse la loro controparte nel commercio, avevano accettato i nuovi dominatori senza nessun problema. Agagia aveva iniziato a commerciare con questi europei importando soprattutto delle armi da fuoco. Armi da fuoco che non erano molto moderne, ovviamente non erano molto evolute, ma che quando vennero utilizzate contro gli Oio, che non le avevano e che usavano invece principalmente dei cavalli, che si spaventarono quando sentirono i colpi di queste armi da fuoco, si rivelarono in effetti ottime. Agagia, con il suo esercito, riuscì non solo a frenare la furia degli Oio, ma anche a respingere le loro truppe e addirittura ad occupare una parte del loro territorio. A questo punto però successe qualcosa. I nobili delle città costiere, una volta saputo che Agagia era impegnato nella parte orientale del suo regno e aveva lasciato nuovamente libere le città che un tempo dominavano, avevano deciso di creare un nuovo esercito e con quello cercare di riconquistare i propri territori. Agagia, che non poteva distaccare il suo esercito dai confini con gli Oio, perché teme ovviamente di essere travolto, decise di crearne uno nuovo, ma dato che non aveva più uomini a sufficienza per poterlo fare, decise di creare un esercito composto principalmente da donne. Ora, secondo la tradizione, questo primo esercito venne addestrato un po' alla belle meglio, fu più che altro un inganno, le donne vennero vestite da guerrieri e vennero mandate a combattere, tanto che quando i ribelli videro arrivarsi contro questo esercito, convinti di non doversi scontrare in nessun modo e vedendosi invece arrivare contro un esercito così grande, decisero di non provare neanche a combattere e di abbandonare ogni tentativo permettendo che le coste rimanessero nelle mani del Daomei. C'è però un'altra tradizione che dice che questo esercito femminile in realtà esistesse già e fosse stato creato dalla sorella del re Agagia. Ora, secondo la tradizione, prima che Agagia prendesse il trono, appunto nel 1720, a governare nel Daomei era una donna, una donna che non solo aveva avuto molte difficoltà a mantenere il trono, ma che per poterselo garantire aveva creato proprio un gruppo di guardie, guardie della regina, tutto al femminile, che erano state rinfornite di armi, addestrate al meglio, ed erano diventate proprio una specie di corpo militare d'elite del suo esercito. La cosa però non l'aveva salvata, il fratello le aveva strappato al trono, ma questo corpo militare femminile era rimasto all'interno dell'esercito del Daomei ed era poi cresciuto proprio a creare questo primo esercito di Amazzoni. Ora, questa seconda versione è leggendaria, non sappiamo se sia reale. Addirittura ci sono alcune fonti che dicono che questo corpo sarebbe nato un secolo prima all'arrivo dei Fon e sarebbe stato un corpo militare legato all'utilizzo degli elefanti. Ma ripeto, non ci sono fonti che ci assicurino questa cosa e addirittura ci sono alcuni storici che ritengono sia leggendaria la figura della sorella del sovrano. Anche perché c'è da dire che secondo la maggior parte delle fonti quando Agagia salì al trono decise di cancellare il ricordo della sorella un po' come fosse una damnazio memoria di epoca latina. Ad ogni modo, questo corpo femminile dimostrò tutto il suo valore e negli anni successivi, anche dopo la morte di Agagia, anche dopo che la sua morte vide altri sovrani alternarsi senza riuscire a ripeterne le gesta, anzi, gli Oio negli anni successivi tornarono e sottomisero nuovamente il Daomei costringendolo a pagare tributo, ma negli anni successivi in qualche modo questi amazzoni continuarono a sopravvivere. Ora, abbiamo parlato un po' dell'aspetto storico militare, ma prima di andare avanti, perché poi la seconda parte vedrà questi amazzoni cambiare nuovamente, bisogna parlare un po' dell'aspetto economico, perché come abbiamo detto nell'introduzione, la base del film è quella secondo la quale questo regno del Daomei sarebbe stata la preda degli europei, degli schiavisti europei che qui arrivavano per catturare i loro schiavi. Ora, la realtà è esattamente l'opposto. La schiavitù in Africa è verosimilmente qualcosa di antichissimo, così come antichissimo per qualunque civiltà, ma se vogliamo limitarci al commercio, potremmo dire in grande stile di schiavi, potremmo dire che venne introdotto in Africa, per quanto noi sappiamo, intorno all'VIII, IX secolo d.C., quando gli arabi che avevano conquistato il nord dell'Africa, la costa lunga il Mediterraneo, iniziarono a spingersi verso sud, arabi e berberi, per cercare di catturare degli schiavi. Ora, inizialmente erano direttamente gli schiavisti arabi a compiere questi raid. Arrivavano vicino a dei villaggi che magari vivevano subito a ridosso della parte meridionale del Sahara, catturavano uomini, donne e bambini e li portavano ai mercati nel Mediterraneo. Progressivamente, però, i regni africani del nord, al di sotto del Sahara, avevano capito che la cosa poteva essere vantaggiosa e quindi si erano trasformati essi stessi in degli schiavisti. avevano iniziato a lanciare dei raid verso gli stati vicino, verso delle tribù isolate, avevano iniziato a catturare a loro volta uomini, donne e bambini e avevano iniziato a venderle proprio ai mercanti arabi e berberi che così, da schiavisti, avevano iniziato a fare semplicemente i commercianti, cosa che da una parte ovviamente gli dava qualche guadagno in meno ma dall'altra parte rendeva il lavoro molto più sicuro e alla lunga molto più renditizio. questi stati africani subsahariani che per anni camparono di questo commercio iniziarono a diventare molto molto ricchi tanto che progressivamente questa pratica si diffuse a varie zone dell'Africa soprattutto nell'Africa occidentale. Nel quindicesimo secolo come è facile pensare lo sapete tutti inizia il periodo delle grandi scoperte gli europei iniziarono a venire a contatto con queste zone e quando dopo aver scoperto le Americhe iniziarono ad impiantare in questa zona piantagioni costruire miniere e iniziarono ad aver bisogno di una gran numero di mano d'opera mano d'opera che inizialmente trovarono tra gli indios locali ma poi questi diminuirono a causa delle malattie delle privazioni delle guerre quando iniziarono ad aver bisogno di mano d'opera decisero di iniziare a procurarsela in Africa e così anche gli europei iniziarono a diventare dei commercianti di schiavi esattamente come era successo per gli arabi se inizialmente erano gli europei direttamente i commercianti europei a procurarsi gli schiavi sulle coste ben presto iniziarono ad essere i regni stessi a farlo e il regno del Daomei divenne uno di questi regni regni che ripeto campavano per la maggior parte proprio sulla vendita di schiavi quanto fosse grande questo commercio ce lo dicono alcuni numeri pensate che la città più importante da questo punto di vista per il Daomei cioè la città di Ouida al momento di massimo fulgore di questo mercato a metà del diciottesimo secolo vedeva passare dai diecimila ai quindicimila schiavi venduti ogni anno un numero assolutamente enorme enorme pensate quante navi negriere potevano attraccare in questa zona e ovviamente una buona parte di questo guadagno finiva nelle casse del sovrano del Daomei in realtà le cose erano molto più complesse di quanto possiamo immaginarci innanzitutto dal punto di vista economico perché si era venuto a creare una specie di economia triangolare qualcosa ne abbiamo già detto quando abbiamo raccontato la storia del Rume un'economia che prevedeva che dall'Africa partissero schiavi che venivano portati nelle Americhe nelle Americhe partissero materie prime che venivano portati o in alcune città sempre in America per essere trasformati in prodotti finiti o addirittura in Europa e poi dall'Europa partissero questi prodotti finiti per essere venduti in Africa e per acquistare schiavi facendo appunto questa economia triangolare inoltre esistevano tutta una serie di accordi anche locali innanzitutto perché molti dei nobili anche all'interno del regno del Daomei volevano che i loro figli studiassero all'estero magari semplicemente imbarcandosi sulle navi dei negrieri e qui imparando qualcosa sul resto del mondo tutte cose che ovviamente potevano poi essere portate in patria ed essere utilizzate ma inoltre il regno riusciva in questo modo ad assorbire anche tutto un certo numero di prodotti che ovviamente arrivavano dall'estero tra cui anche armi le famose armi da fuoco che già erano servite con gli oio e che sarebbero poi servite anche in futuro c'erano poi altri accordi accordi particolari accordi che ad esempio prevedevano che se un uomo del regno del Daomei fosse stato catturato come schiavo e questo uomo poi riconosciuto come tale da un altro membro del regno poteva anzi doveva essere liberato una cosa che ovviamente per gli schiavisti era una perdita ma che alla lunga era un vantaggio perché in questo modo mantenevano stretti i contatti con quei regni che dopo tutto erano la loro forma di ricchezza ci sono delle storie strane su questo ad esempio c'è quella di un uomo che si chiamava William Sessocò meglio questo era il nome che prese una volta giunto in occidente che venne catturato portato come schiavo alle Bermuda riconosciuto qui da altri uomini da altri africani liberato e che una volta liberato nonostante ripeto fosse stato lui stesso uno schiavo decise di diventare a sua volta un commerciante di schiavi e divenne molto ricco proprio commerciando schiavi tra l'Africa e l'America giusto per renderci conto che non esistevano questi movimenti di liberazione di schiavi come il film sembra farci immaginare è facile pensare che anche il corpo delle Amazzoni abbia partecipato ai raid che permettevano al regno del Daomei di inglobare così tanti schiavi da rivenderli una situazione che continuò per tutto il XVIII secolo all'inizio del XIX intorno al 1815 1820 un nuovo sovrano che si chiamava Gezzo decise nuovamente di utilizzare i suoi contatti e la sua ricchezza per rendere grande il regno del Daomei Gezzo aveva preso contatti con un commerciante di schiavi brasiliano che si chiamava Feliz de Sousa che divenne famosissimo in questa zona del Benin tanto addirittura da diventare governatore di alcune città essere considerato ancora oggi in alcune città un benefattore perché costruì porti ampio strade addirittura se andate oggi ad Ouida troverete una statua in suo onore ripeto una statua in onore di uno schiavista che sta in una città africana perché quello era uno dei punti di passaggio appunto degli schiavi bene i contatti tra Gezzo e Felix de Sousa portarono il primo a decidere di tornare ad espandere il suo regno e per poterlo fare una delle prime cose che fece fu ovviamente di aumentare il numero di armati aumentare il numero di truppe dell'esercito regolare ma aumentare anche il numero di truppe tra le amazzoni ora le amazzoni all'inizio del XIX secolo aumentarono quindi e divennero addirittura un corpo tra i 2000 e i 6000 soldati quasi un terzo dell'esercito totale un corpo che non solo era considerato essere uno tra i meglio riforniti con le armi più moderne le attrezzature migliori ma anche uno dei meglio addestrati anche perché le donne che vi servivano non erano donne che normalmente stavano nei villaggi facevano figli e poi venivano richiamate per la guerra ma erano donne a tutti gli effetti pagate cresciute e addestrate solo per essere guerriere secondo quanto si racconta queste donne avevano varia provenienza alcune erano state catturate magari da giovanissime per essere vendute come schiave e gli era poi stata offerta la possibilità di entrare nel corpo altre invece erano donne dei FON dell'etnia FON che avevano deciso di seguire questa strada per poter salire la scala sociale perché entrare a far parte delle amazzoni voleva dire guadagnare posizioni di prestigio tanto più se poi si diventava ufficiali si diventava comandanti posizioni di prestigio che poi rimanevano per molto tempo erano donne che secondo la tradizione non si sposavano non facevano figli molte di loro erano vergini ci sono alcune storie che parlano di casi di infibulazione quindi di mutilazione genitale anche se su questo gli storici sono molto divisi perché pare che la cosa in realtà non fosse strettamente legata a loro entrare a far parte delle amazzoni ma fossero delle tradizioni purtroppo diciamo abbastanza disgustose solo di alcune tribù a cui le bambine venivano sottoposte prima di entrare a far parte di questo corpo militare le donne come vi dicevo venivano a lungo addestrate ed erano molto apprezzate anche dai loro colleghi maschi un po' perché appunto erano abili in battaglia un po' perché erano considerate delle porta fortuna anche dal punto di vista religioso tanto che pare che nell'esercito venissero chiamate madri dagli altri soldati proprio come fossero delle protettrici c'è poi tutto un aspetto legato alla religione locale il cosiddetto Vodun che prevedeva appunto la figura femminile come una protettrice in ambito militare capirete come appunto questo corpo sotto un certo punto di vista divenne veramente un corpo simbolo dell'esercito del Daomei utilizzando queste amazzoni ma soprattutto utilizzando le nuove armi che erano state a lui fornite dai mercanti di schiavi Gezzo decise di intraprendere una nuova campagna contro gli Oio una campagna che questa volta vide vincitore l'esercito del Daomei anche grazie al fatto che gli Oio che per tutto il XVIII secolo avevano continuato ad espandersi all'inizio del XIX erano entrati in crisi a causa di una serie di invasioni che provenivano da nord a causa di una serie di scontri tra vari nobili locali e non furono in grado di esprimere una difesa permettendo così ai Daomei di ricacciare gli Oio indietro e di liberarsi a questo punto divenuti nuovamente autonomi ed è espanso nuovamente il loro territorio il Yifon il regno del Daomei guidato dal Raghez decise di riprendere la sua espansione e una delle prime cose che fece come potete immaginare fu di lanciare dei raid sempre più lontani per cercare di catturare nuovi schiavi da rivendere anche perché diciamolo chiaramente negli ultimi anni avevano avuto molta concorrenza dai mercati di schiavi degli Oio ora che questi non c'erano più o quantomeno non potevano più competere tutto il territorio sembrava essere a disposizione dei Daomei questi raid però nel 1830 portarono alla nascita di una cittadina la cittadina di Abe Couta che venne fondata nella parte più occidentale del regno da un gruppo di schiavi che erano fuggiti proprio ai raid cittadina che progressivamente crebbe di numero raccogliendo sempre nuovi schiavi e che iniziò ad avere l'appoggio anche di alcune potenze europee a cominciare dall'Inghilterra perché in effetti le cose intanto erano cambiate in Europa l'Europa che fino a quel momento aveva largamente utilizzato gli schiavi nelle sue colonie in Europa erano iniziati a sorgere dei movimenti per l'abolizione della schiavitù e addirittura in alcuni stati tra cui appunto l'Inghilterra questi movimenti l'avevano avuta vinta e l'Inghilterra era diventato uno stato che vietava la schiavitù ma non solo la vietava ma addirittura in quegli anni intraprenderà tutta una serie di campagne lungo le coste africane per impedire che il commercio di schiavi potesse continuare che poi lo si facesse principalmente per motivazioni economiche questo è un altro discorso ma in realtà gli effetti furono quelli cioè tutti coloro che fino a quel momento avevano commerciato in schiavi in carne umana iniziarono a dover soffrire gli attacchi da parte della marina inglese che all'epoca come tutti voi sapete era la marina più forte del mondo bene quando il regno del Daomei quando il reghezzo cercò di attaccare la cittadina di Abbekouta non solo trovò degli uomini molto convinti nella sua difesa perché ovviamente stavano lottando per la propria libertà per la propria indipendenza ma si trovò addirittura a scontrarsi con gli stessi inglesi che prima cercarono di fermare gli scontri poi non si fecero nessun problema a rifornire di armi Abbekouta e addirittura a supportarla nei suoi attacchi che le permisero di rimanere autonoma impedendo al Daomei di continuare la sua espansione in questa zona e tanti amazzoni in questa lotta vennero sconfitte e vennero uccise ripeto non perché lottassero contro gli schiavisti ma perché lottavano a favore degli schiavisti la vittoria degli inglesi volle dire per il regno del Daomei ufficialmente rinunciare alla schiavitù anche perché il mercato ovviamente era intanto crollato una rinuncia che non fu mai reale tanto che la schiavitù continuò anche negli anni successivi così come continuarono i raid anche se ripeto era molto più difficile vendere questi schiavi e molto spesso venivano utilizzati dai nobili locali al dià fine del diciannovesimo secondo del 1890 però la zona iniziò a diventare un luogo di interesse per le potenze coloniali sono passati 60 anni è cambiato il periodo siamo entrati in quel periodo che in inglese viene chiamato Scramble for Africa cioè quel periodo in cui l'Africa venne letteralmente spartita tra le varie potenze europee e in questa zona iniziarono a stabilirsi i francesi che prima colonizzarono presero il controllo delle città costiere ovviamente quelle più interessanti dal punto di vista mercantile e poi iniziarono a spingersi verso l'interno il regno del Daomei invece che piegarsi decise di lottare e nel 1890 lanciò una serie di campagne per cercare di attaccare i francesi e di ricacciarli in mare i francesi a questo punto sfruttando ovviamente questi incidenti ma sfruttando anche il fatto che durante queste campagne il Daomei aveva catturato degli schiavi e volendo ovviamente quindi apparire ancora una volta come gli europei che andavano a liberare degli schiavi decise di lanciare una serie di campagne verso l'interno prima portando truppe coloniali in questa zona che rafforzassero ovviamente la presenza francese e riuscendo peraltro in questo modo anche a ricacciare indietro le truppe avversari tra cui le amazzone del Daomei e poi lanciando nel 1893 1894 addirittura una campagna verso l'interno che vide le forze del Daomei completamente sconfitte completamente annientate e il regno venire inglobato nei domini coloniali francesi questi scontri videro sostanzialmente la scomparsa delle amazzoni come corpo militare molti di loro peraltro morirono durante gli scontri addirittura in quella che è stata la battaglia più importante di questa invasione ne morirono un numero che va tra le 600 e le 1000 molte delle quali quando si erano rese conto di non poter competere con i francesi nell'utilizzo dei fucili date le disparità tecnologiche avevano deciso di attaccare all'arma bianca le forze coloniali francesi principalmente provenienti da Senegal ma avevano scoperto che le loro lance potevano poco contro le baionette innestate sui fucili dei francesi che permettevano loro di respingerle facilmente questo aveva portato ripeto ad un vero e proprio massacro ma quasi tutto l'esercito dei Daomei era stato annientato quando nel 1894 il regno sarà inglobato nei domini francesi e le amazzoni ufficialmente saranno sciolte in realtà secondo la tradizione non tutto il corpo venne realmente sciolto una parte ripeto queste sono leggende non ci sono grosse prove inizio ad operare in incognita come avevano fatto peraltro nelle ultime fasi della guerra operando di nascosto entrando nei villaggi occupati dai francesi cercando di uccidere gli ufficiali francesi magari avvicinandosi loro fingendo di essere delle semplici donne del villaggio e continuando a portare terrore agli invasori altre invece rimasero insieme al sovrano sovrano che dovette rinunciare ovviamente al suo titolo ma che rimase nei propri palazzi e che da quel momento si trovò ad avere molte più mogli di prima alcune delle quali però pare non fossero veramente mogli ma continuarono a essere un corpo di guardia del corpo di Amazzo e del Daomei che lo continuò a seguire e a proteggere anche negli anni successivi molte di loro però dovettero tornare ai loro villaggi originali dovettero rinunciare al loro prestigio dovettero rinunciare al loro ruolo ed è facile pensare che per molte di loro fu un ritorno decisamente molto molto traumatico nonostante qualcuno dica che le Amazzo e del Daomei continuano a esistere ancora adesso e continuano a essere addestrate di nascosto una specie di corpo misterioso ma ripeto su questo non c'è nessuna prova e sa molto di leggenda l'ultima Amazzo del Daomei conosciuta ancora viva venne intervistata nel 1978 quando venne trovata in un villaggio si trattava di una donna molto molto anziana ultracentenaria che in effetti morirà l'anno dopo nel 1979 e che disse che quando era ragazzina era stata reclutata tra le Amazzoni e aveva combattuto nell'ultima fase dell'invasione francese fu lei a raccontare cos'era successo negli anni successivi e anche se ovviamente non aveva nessun documento per poterlo dimostrare anche se i fotoreporter riportarono che aveva ancora alcuni tatuaggi tipici proprio di di quelle Amazzoni ebbene nonostante tutto questo aveva dei ricordi in effetti molto molto precisi che facevano pensare che se non era stata lei direttamente a partecipare a quelle guerre non si poteva capire veramente quando fosse nata sicuramente aveva ricevuto quei racconti di prima mano da qualcuno che ne aveva partecipato ad ogni modo anche quest'ultima Amazzone nel 1979 si spense e la loro storia almeno ufficialmente finì qui fino a quando appunto qualche settimana fa è uscito il film il nuovo film prima in America poi da noi un film che però ripeto per cercare di raccontare una storia che sia più accettabile per il pubblico moderno ha completamente stravolto quella che è la realtà e se da una parte ha fatto una storia diciamolo più amichevole più alla portata di tutti dall'altra parte ancora una volta non fa che aumentare quella che è l'ignoranza di tutti noi sulla storia di un continente l'Africa che ha una storia molto molto interessante che però non viene raccontata per mille motivi tra cui ripeto forse anche per un po' di disinteresse del pubblico e tutto questo è veramente un gran peccato spero con questa pillola e con quelle che magari seguiranno nei prossimi mesi di darvi qualche informazione in più e di stimolarvi un po' di più la curiosità per questo continente molto 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 interessante io vi fermo qua spero sia stata una bella puntata comprensibile vi abbia veramente un po' stimolato come sempre ringrazio tantissimo che ci supporta abbonati Patreon da poco anche coloro che ci supportano magari ogni tanto con delle donazioni dirette sul conto Paypal li trovate tutti in descrizione io vi ringrazio come sempre tutti volevo fare una stima forse l'ho già detto ma tanto per darvi un'idea nel mese di novembre grazie al supporto di chi ci aiuta siamo riusciti a portare sei video in più quindi come vedete grazie al loro supporto riusciamo a portare più materiale per tutti e questo è veramente una cosa secondo me fantastica oggi voglio ringraziare tantissimo Luca Invernomuto grazie mille per il tuo sostegno e complimenti perché hai un nick veramente strepitoso ti dirò agli albori 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 uno dei primissimi nick che utilizzavo io nei videogiochi non ancora online in single era proprio Invernomuto perché è ispirato ad un libro che assolutamente adoro per il resto come sempre io ricordo a tutti di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao ciao